Buongiorno dal Foro Italico, siamo con Tatiana Garbin, capitano della nazionale italiana di Billie Jean King Cup. Capitano, partiamo da qui, partiamo dal Foro Italico, in quanto ex campionessa di questo sport, in quanto adesso capitana della nazionale. Ti chiedo che emozioni ti suscita questo posto? Beh, questo posto mi ricorda emozioni fortissime. Giocare qui per ogni italiano è qualcosa di speciale e un'opportunità grandissima, quindi tante emozioni, diciamo che siamo tutte un pochino partite da qui, questo è il primo torneo importante in Italia e le emozioni sono fortissime, ancora il ricordo è molto forte. Le emozioni che stanno provando a vivere, che stanno vivendo queste ragazze, che stanno giocando le prequalificazioni degli internazionali BNL d'Italia, il livello è molto alto sia in campo maschile sia in campo femminile, poi ci sono tante giovani che tu stai vedendo crescere da tanti anni, quindi ti chiedo il tuo punto di vista, il tuo bilancio di queste prequalificazioni. Le prequalificazioni mi hanno stupito perché il livello è stato altissimo, ho visto un livello di tennis che un pochino mi aspettavo perché queste giovani ragazze stanno crescendo e qui hanno una grande opportunità di crescita, di confrontarsi con giocatici di alto livello in queste prequalificazioni si confrontano tra loro, però c'è una componente importantissima che è quella dell'attenzione. Qui si vedono veramente i caratteri che vengono fuori e sono contenta anche di vedere questa parte emozionale molto forte che tutte le ragazze provano quando calpescano questi campi. Qui si stanno giocando queste ragazze, le wildcard nelle qualificazioni, perché quelle del tabellone principale sono state già assegnate, in più alcune azzurre già di classifica hanno l'opportunità di giocare il main draw e quindi devo chiederti anche cosa ti aspetti dal tabellone principale e dalle nostre giocatrici. Guarda, credo che qui le italiane possono finalmente ritrovare l'ausilio del pubblico. Ho sempre detto che l'ausilio del pubblico è un'opportunità importante perché fa sì che i nostri tifosi siano collegati un pochino alle nostre giocatrici che hanno in questa occasione la possibilità di vedere il proprio pubblico, il proprio calore che questo torneo riesce a dare alle proprie giocatrici italiane. Quindi per loro sarà un'opportunità importante e sono sicura che faranno bene. Ti devo fare un nome, un nome che è quello di Lucia Bronzetti che fra fine 2021 e inizio 2022 sta facendo cose incredibili, non tanto incredibili vedendo come gioca a tennis perché gioca benissimo, ma la crescita è stata rapidissima, quindi un giudizio su Lucia che è stata convocata a giocare anche in doppio il nazionale proprio con te ad Alghiero. Lucia ha fatto una crescita importante, devo dire che in questi anni assieme al suo allenatore e al suo team con Francesco Piccari hanno coltivato davvero una mentalità giusta, la mentalità di crescita passo dopo passo. Questo credo che sia un esempio importante anche per tutte le ragazze che stanno crescendo in questo momento di non avere fretta e di costruire delle basi molto importanti. La base di crescita che hanno fatto è stata importante dal punto di vista fisico, dal punto di vista mentale ma soprattutto dal punto di vista strategico. Vedo in lei sempre grande attenzione e lucidità nella strategia di gioco e secondo me questo le sta dando tantissime chance di potersi giocare a livello molto alto. L'ultima è sulla Billie Jean King Cup perché ad Alghiero una splendida vittoria anche come punteggio. Molto convincente vittoria contro la Francia. Come arriverà alla fase finale questa nazionale? Siamo carichissime nel senso che questa vittoria ci ha dato grande forza. Credo che questa sia la vittoria di una squadra molto unita che abbiamo visto proprio in tutte le fasi, le fasi dei singoli dove le giocatrici erano in panchina ma non che tifavano, facevano proprio un supporto veramente a chi giocava eccezionale. Ecco questo mi dà grande forza. Io credo molto nello spirito di squadra, nel legarsi, le ragazze hanno molto legato tra loro e credo che sia importantissimo poi per quando andremo a giocarci le fasi finali. Grazie, in bocca al lupo. Ciao.